Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono un buon channel Oggi ragazzi, penso che non registrerò i video, l'unico video che farò sarà fitto Perché, allora ragazzi, non so per me perché non c'è nessuno Infatti, clicchiamo Non so connesso a internet, prima metto ok Quindi, poi, se andiamo sul Clash Royale ragazzi, c'è una vera connessione Sembra che questo problema si libera entro stasera, però penso che non farò video ragazzi Ma, ecco, infatti, allora, quindi non vediamo tutto la giornata Anche su YouTube, vorrei vedere i miei video ragazzi Niente proprio Niente proprio Vabbè ragazzi, volevo abitare di questo perché non mi voglio mai lasciare senza video Almeno oggi ho fatto questo video Quindi, vabbè, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi